Una mattinata all'insegna dello sport e dell'aggregazione. Prima edizione della passeggiata ecologica Trofeo Sacro Cuore, organizzata dall'Associazione Dilettantistica Il Parco, nell'ambito della Festa del Sacro Cuore a Cappella Bianchini, con la partecipazione dell'Associazione Italiana Arbitri, sezione di Torre del Greco. Promotore dell'iniziativa, l'assessore allo sport del Comune Torrese, Giuseppe Speranza. Direi finalmente dopo 40 anni siamo riusciti a riportare questa manifestazione in zona Scappi Bianchini. Era una manifestazione che non si faceva dal 1982 ed era la manifestazione che facevamo puntualmente alla mattina della Festa del Sacro Cuore. Un momento di aggregazione generale. Oggi purtroppo c'è stata, non dico una scarsa partecipazione, ma una partecipazione ridotta. Ringrazio tutti per l'organizzazione, per la partecipazione e per l'appoggio che hanno dato a questa manifestazione. Grazie anche a voi della stampa che provvedete a diffondere i nostri messaggi e i nostri comunicati. L'abbiamo approntata in poco tempo, con le nostre forze, però certe volte le cose più semplici vi escono meglio. Quindi la soddisfazione nostra è così, vedete. Dai che ce la fate, dai!